Umberto Sassarini, centrocampista del San Nicolò, ci troviamo a commentare una partita nella quale le occasioni sostanzialmente le ha avute il campo basso ma non mi sentirei di dire che il San Nicolò ha demeritato questo 0-0 Per noi non era facile venire in un campo difficile della capolista dopo due sconfitte abbiamo fatto le ultime due partite non benissimo soprattutto domenica scorsa aver perso l'ultimo minuto con la vastezza quindi venire qui e avere anche poche occasioni e concedere poche al campo basso non era facile però abbiamo fatto un'ottima prestazione secondo me sul piano della qualità che abbiamo provato a giocare, dell'intensità e diciamo che oggi è anche un pizzico di fortuna, allora hanno preso palo però abbiamo fatto una buona prestazione e continuiamo così anche perché la strada è lunga Non c'è stato nemmeno un calo fisico del San Nicolò a partita in corso, nemmeno negli ultimi minuti quindi sempre sul pezzo come squadra Sì sì, noi lavoriamo abbastanza durante la settimana, forte sull'intensità, sulla forza fisica quindi abbiamo retto al colpo veramente, soprattutto negli ultimi minuti visto che domenica scorsa abbiamo perso all'ultimo, negli ultimi due minuti quindi è stata una bella partita secondo me da vedere dal campo, poi da fuori non lo so, però è stata una buona partita quindi è stata una buona partita